Bentornati! Allora sono andato ieri sera a vedere per voi, ma anche per me diciamo la verità, questo Guillaume Tell che c'è stato in scala e oggi ve lo racconto. Guglielmo Tell o Guillaume Tell nella versione francese è secondo me l'opera più romantica fra le opere belcantistiche e l'opera più belcantistica fra le opere romantiche. È un capolavoro incredibile, di una bellezza unica, che però stante le quattro ore di musica che portano la performance con gli intervalli a 5 ore e 20 indicativamente, più gli applausi, più tutti gli extra. È ovviamente un'opera impegnativa, prima di tutto per l'orchestra e per il direttore evidentemente, ma poi per i cantanti, per il coro e anche per il pubblico, perché comunque stare così tante ore concentrati e attenti, seduti dove è possibile, insomma è ovviamente impegnativo, però direi che vassa la pena. Parto subito a parlarvi della cosa che vi interessa di più, alla fin fine. Non so se è quella che vi interessa di più, però sicuramente è quella che ultimamente ha, come dire, generato il maggior numero di interventi e di confronti, in certi casi anche di scontri, cioè la questione della regia. Via il dente, via il dolore, parliamo della regia. La regia è di Chiara Mutin, che per chi non lo sapesse è la figlia del maestrissimo. Allora ve la faccio vedere come è nata la regia e poi ve la racconto. Allora ve la faccio vedere come è nata la regia. Allora, a me la regia non è piaciuta, devo dire la verità, però non mi sento neanche di stroncarla senza appello. Che cosa voglio dire? Forse perché siamo oggi in una situazione in cui tendiamo a elogiare qualunque regista che non distrugga completamente l'opera che amiamo. Per cui quando uno fa già una cosa in cui distrugge una parte, ma non distrugge proprio tutta, 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 allora tutto sommato diciamo che questo regista è bravo. Io ovviamente in questo plurale me e stati si intendo tutti quelli che come me hanno una visione classica dell'opera tradizionale che non implica, almeno nel mio caso assolutamente, non esclude che ci possono essere delle regie modernizzate, ma come ho detto diverse volte e come ne parleremo anche nella live di domenica prossima alle 15, di domenici, diventa intollerabile quando la parola e il gesto sono in contrasto con la scena. Vabbè, insomma, ve la spiego un po' meglio. Quello che mi spiace per questa regia è che credo che sia un'occasione persa. L'occasione persa perché la regia, se intendiamo come regia i movimenti scenici, era fatta molto bene. Cioè le masse erano mosse bene, erano collocate bene nello spazio scenico, a parte una scena dove il coro era messo in una posizione veramente infame e non sono andati fuori solo perché sono veramente un ottimo coro, diretti da un ottimo direttore, ma lo vedremo più avanti. Però a parte questo le masse erano ben posizionate, ben mosse, ormai l'usual, abbiamo visto altre volte, gli figuranti, ormai non se ne può assolutamente fare almeno in un'opera e va bene, però insomma tutto sommato ci poteva stare. Perché dico che è un'occasione persa? Perché secondo me se questi benedetti registi non si incapponissero con queste ambientazioni assolutamente astruse e balzane, ne trarrebbero tutti giovamento, loro in primis e il pubblico che li va a vedere. Perché vi assicuro che la regia di ieri sera, se l'avessimo decontestualizzata da quell'ambientazione balorda che ha avuto, io ora ve la spiego, se si fossero tolte un paio di cose, e ora vi dico anche quali secondo me, io credo che la regia ieri sera sarebbe stata non applaudita, applauditissima. E quindi ho sempre un po' l'impressione che i registi costituiscono una sorta di lobby mondiale, io li vedo che si radunano con i cappucci e tra di loro si dicono dunque come possiamo far a distruggere i barbieri Siviglia? E uno fa ma io sto pensando di metterci dentro un carretto dei gelati degli anni 50, no no fa un'altra, no no troppo poco, troppo poco, io ci voglio mettermi dentro magari dei, non so, dei drogati degli anni 70, no non va bene, fermi tutti raga, ce l'ho io, ci mettiamo un carro armato, sì bello il carro armato, il carro armato va bene Siviglia. Allora questo è un po' quello, e secondo me funziona così, perché se no non si spiega, non si spiega, è vero che, non mi ricordo se era Ugo De Hanna o chi, non mi ricordo, chi diceva il regista non vuole applausi, vuole i boo e vuole contestazioni, perché fondamentalmente il concetto era, non giuro che fosse Ugo De Hanna, ma insomma, comunque era un regista importante, diceva fondamentalmente, nel momento in cui mi applaudono, io il regista non ho, come dire, non ho sollevato uno spirito critico, non ho stimolato alcuna riflessione, non ho fatto riflettere, pensare, arrabbiare, contestare, eccetera, eccetera, ma beh. La cosa è apprezzabile al punto di vista intellettuale, ma è meno apprezzabile quando poi a farne le spese sono quelli che sono seduti 5 ore, soprattutto se hanno pagato un biglietto abbastanza consistente. Scene e luci erano bellissimi, perfetti, per un'altra opera però, non per questa, non saprei dirvi per quale, ma erano, no adesso battute a parte, non la voglio buttare in vacca, erano soprattutto le scene bellissime, un film, vi devo dire, veramente splendide, però non c'entrava un tubo con le Puglielmo Tell, tanto per cambiare, o il Guillaume Tell, tanto per cambiare. Qui non c'entrava veramente la famosa Beata Fava che ogni tanto nominiamo come protagonista di alcune, di alcune opere del 7-800. Dove era ambientata quest'opera? Allora, io ho un ego abbastanza sviluppato, per mia fortuna, da dire senza problemi che non l'ho capito. Era in una specie di fabbrica post-industriale, o in un lager, o forse poteva essere una prigione, un carcere, un qualcosa del genere. Non lo so, non l'ho capito. Certo, avrei potuto documentarmi, avrei potuto informarmi, ma francamente mi sono un po' stufato di andare a titillare l'ego di questi signori. Cioè, parlo di registi, evidentemente. Perché io credo di essere una persona di normale intelligenza e di media cultura. E quando una persona di normale intelligenza e media cultura non capisce un qualcosa di una regia in un campo che bazzica da decenni ormai, allora non credo che debba essere la persona a sentirsi stupida. Forse deve essere la persona che gli propone questo contenuto a farsi delle domande. Perché il famoso, io ho sempre esecrato il famoso ah, non lo so e non lo voglio sapere. Perché ritengo che sia proprio un atteggiamento da ignoranti nell'accezione più più feroci del termine. Però adesso comincio a entrare anch'io in quest'ottica ignorante di dire non lo so e non lo voglio sapere. Cioè, se io che bazzico il teatro da decenni e che lo faccio e l'ho fatto per lavoro e che conosco bene le opere non capisco quello che tu, regista, mi stai dicendo posso essere scemo io o può essere che non ti sei spiegato tu. Secondo me non ti sei spiegato tu. Però, avendo l'ego sviluppato, ipratrofico di qui sopra magari ho un'eccessiva considerazione di me e quindi l'errore è mio. Per cui, quello che mi sconvolge di quest'opera non sono i mitra. I mitra li abbiamo visti nel 1970 in Gesù Cristo per star. Non sono gli iPad. Gli iPad non ho capito esattamente bene. Cioè, praticamente, tutti, come dire, gli sto giocati, tutti gli svizzeri avevano una sorta di iPad bianco che faceva luce, ogni tanto alzavano, ogni tanto tiravano giù. Io non ho capito cosa rappresentasse e, come ho detto prima, non lo so e non mi interessa saperlo se il significato non era abbastanza chiaro. Sicuramente non è stato apprezzato dal pubblico e l'avete sentito prima. Dopodiché, se tu vuoi, regista, farmi apparire Melch Tal come Gesù Cristo, non è una battuta, è veramente così, che poi quando c'è il trio con Arnold, Guillaume e Walter in base a ogni opera lo chiamano in maniera diversa, insomma, comunque il loro trio in cui loro ricordano, spiegano a Arnold che il padre Melch Tal è stato arrestato e ucciso e giustiziato, va bene. In questa scena lui, non è segnato nel libretto, ma lui entra in scena Melch Tal morto con una visione, con uno spirito, mi va benissimo. Vestito da Gesù Cristo, va bene, con la tunica, poi gli ha messo coloni e spine, mi sta bene. Poi l'hanno messo in croce, va bene, va bene. Cioè, non è che per forza dobbiamo fare... Cioè, ripeto, come ho detto mille volte, quello che c'è scritto sul libretto non è, come dire, nel Vangelo, non è che non si possa cambiare. Va bene, si può cambiare, si può attualizzare, io non ho niente in contrario a attualizzare. L'unica cosa che chiedo è che il gesto e la parola non siano in contrasto con quello che vedo. Per cui, a me sta cosa qui mi può anche star bene. Quello che a me non è piaciuto è stato un certo indulgere, indugiare, per esempio, nella scena nella scena in cui le spose vengono fondamentalmente fatte oggetto di violenza e che poi stanno muovendo in giro questi abiti insanguinati. Cioè, è vero che il tema della violenza e soprattutto del sopruso dell'oppressore sul popolo invaso, diciamo così, c'è, è assolutamente presente nell'opera. Però mi è sembrato così una cosa un po' gratuita. Ancora più grave perché ce la fanno vedere su una musica che non c'entra un tubo. Cioè, se nel Padre Sis, che è una delle cose più belle che Rossini abbia scritto, mi distrai una musica così bella con... non con una coreografia, perché a coreografia ci potrebbe stare, è stato fatto apposto, è un belletto, ma con delle azioni sceniche che possono centrare così con la trama, ma che non centrano con quella musica. A me quella cosa lì proprio distorce. E quindi se durante il Padre Sis doveva fa pap 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 pap… musica allegra, gioiosa, e vedo questi qua che stanno facendo delle azioni turpi contro queste povere donne quello per me è un punto non nell'occhio ma nell'orecchio uno nell'occhio e uno e uno nell'orecchio e queste cose secondo me non giovano non servono a niente cari amici registi mettetevela in testa non siete scandalosi non siete trasgressivi non siete innovativi è già stato fatto tutto abbiamo già visto questa cosa centinaia di volte abbiamo visto tutto in teatro ok per cui non c'è niente che possiate fare per far per stupirci potete solo farci incazzare e se questo è il vostro scopo direi che ci state riuscendo abbastanza bene ora chiara muti è un adulto e deve giustamente fare le proprie scelte ci mancherebbe non è perché figlia di ricordo muti deve fare quello che vorrebbe ricordo per mia curiosità personale sarei portato a chiedere al maestro che cosa ne pensa lui che giustamente e complessibilmente si è sempre schiarato contro alcune regie diciamo così innovative e uso questo aggettivo come come uffemismo sarei curioso di sapere cosa ne pensa di questa regia detto questo ripeto secondo me è una grande occasione persa perché tolte queste queste inutilità e con un'ambientazione un po più aderente non dico che dobbiamo farla per forza ambientata ai tempi guglielmo tell ma ma una cosa un po diversa un po più coerente con quello che si sta cantando secondo me poteva essere una bellissima regia quindi un'occasione persa finito il pippone sui registi e forse dovremmo anche smettere di parlare altrimenti diamo loro troppa importanza parliamo dei cantanti bello metto i comprimari tutto in un in un blocco per parlare uno a uno altrimenti il video dura un'ora e mezza comprimari tutti di ottimo livello buoni trova siamo anche in scala insomma non mi aspetto niente niente di meno direi una menzione particolare per jenny cioè per katrine trottmann che interpreta il figlio di guglielmo di guillaume che è stato anche molto apprezzato dal pubblico c'è da dire che questa essendo un'opera di solo le quattro ore è un'opera in cui tutti cantano e anche quelli come ruodi che ha un apparticino praticamente all'inizio hanno ruoli impegnativi o lunghi e impegnativi quindi comunque è un'opera in cui i comprimari insomma devono cantare insomma vediamo invece ai protagonisti matilde avrà voluto essere interpretata da marina rebecca che mi sarebbe tanto piaciuto vedere perché l'ho ascoltata tante volte in video ma mai dal vivo e quindi speravo che di poterla sentire ma due o tre settimane fa è stato annunciato che sarebbe stata sostituita da salome issia non sono sicuro della pronuncia del nome mi scuso se l'ho pronunciato male mi aspettavo qualcosa in più nel senso questa cosa poi si è anche riflessa nell'uscita è stata apprezzata dal pubblico ma insomma questo il ruolo di matilde è un ruolo che se cantato bene dà tanta soddisfazione al pubblico e di conseguenza anche alla cantante che ripeto che non ha cantato male però voglio dire in una prima alla scala di una nuova produzione mi aspetto un qualcosina di più dal soprano protagonista dell'opera ecco invece insomma niente niente che ricorderemo francamente quindi mi aspettavo un pochettino di più da lei mi aspettavo esce un pochettino di più dal pubblico per per gessler che è stato interpretato da luca titoto che secondo me è stato bravo è stato bravo ed è anche un bravo attore attenzione che gli ricavano si dice che un bravo attore è un modo diverso di dirsi però non ha una gran voce no secondo me ha cantato bene e in più è un bravo attore pubblico l'ha applaudito sicuramente è stato stato apprezzato però secondo me un qualcosina in più solo se lo meritava come apprezzamento da parte da parte del pubblico anche perché i bravi attori ne parleremo anche adesso che parliamo di 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 arnold ci dice sempre insomma che gli attori scusate si dice sempre che i cantanti gli ricci non sanno recitare sono lì arriva si rivettono si muovono pensano a cantare basta ed è per questa ragione che i registi si sentono autorizzati a farcire il palco con mille figuranti ballerini comparse eccetera eccetera invece non è vero perché gessler come arnold sono due ottimi attori che si muovono bene e hanno recitato molto bene quindi a riprovare il fatto che esistono dei cantanti che stanno anche morire sul palco in magari termosfrondare un po tutti questi orpelli inutili e cari registi ve la butta ancora lì andiamo arnold dimitri corciac a non tutto il loggione io ero in loggione a non tutto il loggione è piaciuto però a me è piaciuto e che immediatamente mi è piaciuto anche al pubblico ha avuto tanti applausi e secondo me è stato bravo è stato bravo la parte lunga e molto impegnativa facciamo da questo concetto e lui lo si è risparmiato è stato generoso ha cantato bene forse è partito un po freddo forse l'inizio primo atto sembrava un po imballato forse anche un po la prima non lo so poi comunque è un bravo musicista musicista molto completo e secondo me si sente anche nelle scelte musicali che fa insomma fatto anche delle belle messe di voce che non sono però le messe di voce che fanno alcuni cantanti di cui non faccio il nome tenore in particolare che serve in realtà perché non ce la fai allora vi faccio un piano un pianissimo così vi faccio vedere che sto fare la messa di voce no sono messa di voce espressive e interpretative musicali soprattutto molto molto musicali e a me è ripeto lui è piaciuto e quindi spero di rivederlo prossimamente in altre produzioni mi pare che ci sia il doppio cast non sono sicuro ma insomma ma se andate a sentire lui o l'altro cantante magari fatemi sapere nei commenti cosa come ha cantato o come ha cantato il secondo cast non mi ricordo francamente se c'è un secondo ma credo di sì su un numero di esce così importante c'è sempre il secondo cast andiamo protagonista Guillaume Michele Pertusi beh a me Pertusi piace a me Pertusi piace è stato molto apprezzato da tutto il pubblico detto questo mi istituisce un po' la scelta soprattutto se fai e sbandieri un'edizione critica cioè comunque il ruolo di Guillaume è un ruolo storicamente da baritono sì è vero che va giù fino al fa ma insomma ma non è un fa tipo quello di sparafucile per capirci è un fa insomma che si può che si può glissare abbastanza facilmente con un po di mestiere compreso va su fino al sol che non è decisamente una nota che molti bassi suonino con cantino scusate cantino con con facilità lui ha cantato bene ripeto poi a me Pertusi piace anche lui è un bravo attore si muove ha presenza scenica è alto e grosso e ha una voce è una voce importante che passa bene l'orchestra anche quando la regista decide di rimetterlo a 200 metri in fondo in fondo al palco per cui a me è piaciuto mi è piaciuto anche se è in dubbio che su certi su certe notte acute certe notte acute le abbia affrontate con mestiere più che con uno sfoggio di vocalità e di decibel coreo orchestra bravi 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 l'orchestra perché ha suonato molto bene tenete presente insomma che suonare quattro ore non è facile che non è fisicamente facile non è facile appunto dal punto di vista anche della concentrazione che è richiesta aggiungiamoci poi che ci sono alcuni strumenti come i corni che tra quello che fanno in buco e quello che fanno fuori la scena hanno delle parti veramente molto impegnative molto scoperte secondo me Rossini aveva avuto un qualche brutto rapporto con qualche cornista e ha voluto punirlo in questa maniera scrivendogli una parte tempestata e molto molto pericolosa e molto molto scoperta e detto caso quindi l'orchestra molto bene cori bravissimi bravissimi gli artisti del coro molto bravi ripeto soprattutto in certe situazioni in cui erano posizionati anche in stazionamenti non praticamente agevoli per per guardare il direttore per la distanza perché qual è il problema quando tu metti soprattutto il coro così tanto lontano al direttore orchestra è facilissimo che ci siano gli scollamenti perché il suono ora che arriva può essere già in ritardo in questi casi il direttore deve dirigere molto in anticipo e dirigere il coro con quel gap di anticipo necessario a fare in modo che tra quando tu dai il gesto e quali partono il suono va insieme a quell'orchestra altrimenti ci sarà sempre un scollamento che ieri non c'è stato specifico bene anzi c'è un episodio e poi vi parlano meglio quando vi parlo di mariotti e quindi insomma è necessario fare fare questa cosa qui altrimenti si rischia veramente tanto altra cosa che i registi dovrebbero sapere e quantomeno tenere a tener conto comunque coro orchestra bravi 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 passiamo alla direzione michene mariotti la prima volta che lo è la prima volta quello vedevo dal vivo e secondo me è diretto molto bene tanto bravo preciso puntuale anche abbastanza asciutto nel senso ma anche abbastanza essenziale non si è perso in come dire in inutili in inutili sceneggiate che spesso i direttori fanno c'è anche da dire che quattro ore anche per sono quattro ore anche per lui quindi devi anche gestire le energie insomma anche le energie proprio gestuali che poi sono energie fisiche insomma secondo me è diretto molto bene abbiamo sentito veramente dei preziosismi da parte di lui da parte dell'orchestra delle dinamiche diverse da quello che io conoscevo diversi diversi punti soprattutto nella nella sinfonia che è bellissima molto precisa poi quell'attacco l'attacco è molto pericoloso e ho visto anche signor orchestra signori direttori su quell'attacco avere un momento tre secondi di panico che che ti fanno veramente invecchiare invece è stato molto bravo molto preciso lui e l'orchestra evidentemente è stato anche bravo come dicevo a riprendere il coro nell'unico piccolo squallamento che c'è stato ma è stato veramente una cosa minuscola per cui il ha ripreso molto molto bene quindi ma il coro stava andando fuori non perché il coro e perché era messo in un punto veramente sconveniente veramente sconveniente e cioè cercando di usare parolacce veramente sconveniente e quindi lui bravo bravissimo lui a riprendere il coro che ha sentito ma che stava andando fuori l'ha ripreso subito e bravissimo il coro a capire che stava andando fuori e farsi riprendere quindi bravi 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 il padre sis che è una delle cose più belle di quest'opera e forse più belle che ha scritto rossini è stato suonato molto bene per un filo tirato nel mio gusto sarebbe un'attacca in meno però quello è gusto mio e non l'ha non l'ha deciso il padre eterno per cui va bene così lui lo studiava così ed è giusto è giusto farlo così ha fatto nel padre sis un pianissimo estremo un pianissimo che a volte sentiamo più in puccini che in rossini veramente è giusto a portare al suono a una leggerezza una a una trasparenza veramente notevole bello 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 quindi bravo mariotto la prima volta ripeto che lo vedevo dirigere e spero di vederlo altre volte perché è un direttore che mi è piaciuto molto assolutamente sul pezzo concentrato e e quindi bene il fatto che avete sentito quanti applausi quanto apprezzamento venuto al pubblico potrebbe non dirci niente un direttore non è non ha diretto bene perché lo dice il sottoscritto e un direttore non ha diretto bene perché lo dice neanche il pubblico un direttore ha diretto bene perché lo dice l'orchestra come potete vedere questa è la cosa che veramente ci fa capire perché attenzione qualcuno potrebbe dimmi vabbè ma anche quando è uscita la regista quelli sul pub con l'applaudivano sono due cose diverse chi è sul palco può applaudire per una serie di ragioni che possa essere magari perché è veramente convinto delle applausi che sta facendo magari lo fa per convenienza magari lo fa per rituale magari lo fa per abitudini ma magari lo fa per captazio e benevolenza per qualunque ragione lo faccia e sul palco in qualche maniera non vuol dire che sia obbligato a farlo ma potrebbe essersi potrebbe sentirsi obbligato a farlo in buca no perché quando il direttore finisce l'opera stringe la mano alle prime parti e se ne va l'orchestra potrebbe tranquillamente andarsi a cambiare e andarsene via cioè non devono per forza l'orchestra non deve per forza contrattualmente stare lì a aspettare il direttore è vero che il direttore quando esce poi fa alzare l'orchestra d'accordo l'orchestra potrebbe alzarsi e potrebbe andare via qualcuno in certi casi anche per protesta con il direttore proprio se ne va via appena appena la musica è finita per cui l'orchestra che applaudi il direttore come avete visto lo fa esclusivamente per una ragione perché ha gradito il lavoro fatto col direttore non c'è nessun'altra ragione soprattutto quando poi non è un singolo ma insomma sono tanti orchestrali che ti applaudono quindi ennesima riprova di quello che ho detto prima concludiamo sono andato più lungo di quanto mi immaginassi concludiamo dicendo che comunque lo spettacolo mi è piaciuto nel suo complesso era pieno il teatro era pienissimo e c'erano tanti tanti giovani e questo mi ha fatto un piacere in mezzo tra l'altro ho incontrato uno di voi Stefano che saluto che mi ha riconosciuto quindi siamo fermati siamo fermati a parlare a lungo tra un atto e l'altro e vedere ragazzi come Stefano e c'erano tanti ragazzi di vent'anni o poco più così interessati così appassionati all'opera così anche competenti nei giudizi che danno beh mi fa ben sperare sul futuro dell'umanità e soprattutto mi fa ben sperare sul futuro dell'opera lirica scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa recita o se siete andati a vedere una replica successiva scrivete nei commenti chi ha cantato e come ha cantato iscrivetevi al canale se avete ancora fatto se video vi è interessato lasciate un like se avete piacere abbonatevi al canale da qualche settimana è possibile e noi ci vediamo al prossimo video non mancate